Benvenuti alla Notte Bianca di Cabriaco, dove si è svolto un grado di macchine Ma ascoltare le sportive Non si può fare 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 No Non si può fare Non si può fare Non si può fare Il primo raduno con Cabriaco Ho avuto un po' di piotte ma non c'è per mai Fa che anno lo facciamo lo stesso Di queste 100 macchine quante Diciamo erano qui per far vedere La potenza del motore Quante per far vedere l'impianto audio Diciamo un 50-50 50-50 Da dove sono venute? Milano Quali intorno anche su Zara Alcuni dalla Bascia Modena, Mantua Fidenza Da Felina, Casina Un po' da tutte le parti Ho visto anche delle macchine storiche Tra parentesi Oltre che quelle sportive, storiche Iscritte Asia Diciamo un po' di più 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 Un po' di più Saco Amare Parbes Epleis Inov transf figuredestep AdI Grazie